E la festa estiva per eccellenza è ferragosto. Gli salentini come la trascorreranno? Molti andranno al ristorante, altri invece la passeranno in spiaggia, mangiando qualcosa con i piedi nella sabbia. Allora, come vi rinfrescate oggi? Facendo il bagno in acqua. E poi cosa sta agitando? Il caffè. Poi siamo bene a mare, stiamo qua, stiamo tranquilli, sereni, andiamo avanti così. La giornata è buona, andiamo avanti. Più di un bagnetto, ci rinfreschiamo un poco a poco e ritorniamo di nuovo sulla polterona. Ci mangiamo un bel piatto di riso fatto da ieri sera, insalata di riso. E basta, siamo fino al pomeriggio, fino alle 5 e mezzo, alle 6 e ce ne andiamo a casa nostra. Farò tanti tuffi e giocheremo a palasi. Cosa mangerete? Mangerete in spiaggia? No, no. A casa. Qual è il menù? Pesche. E poi? Ieri abbiamo esagerato e oggi pesche. Beh, abbiamo qualcosa per mangiare e stiamo fino al pomeriggio. È un po' di tutto. È qualcosa di fresco, qualche bibita. È una bella parmigiana, non l'ha fatta oggi. No, no, la parmigiana, basta il forno. Ah, wow, buono. L'ho fatto ieri sera, in modo che il riso sia freddo e l'ho potuto condire. Quindi, vedi, le picchiette, l'acqua fresca, il panino. No, oggi panini. E poi? E poi un po' di insalata da pomodoro, minoncella, tonno, parmigiana dentro. Barmigiano? Anzi, della tipica filippina. E basta? Che puoi fare? Guarda, c'è il barbecue, questo di polo e questo di maiale. E la solita parmigiana, poi qualcosina, un po' di insalata, qualcosa così. La pasta asciutta che non deve mancare. Ma però un po' di ogni cosa, non è che mangiamo chissà che cosa. Abbiamo già prenotato al ristorante. A San Cataldo. E spaghetti e i frutti di mare. E il secondo qual è? Frittura di pesce. Oggi come tascoglierai questa giornata? Dopo a pranzo? No, adesso ci facciamo la giornata qui. Poi stasera andiamo a mangiare un graturismo con dei amici. E qui ci sono tante cose da fare. Sono venuta qui per andare a mangiare al ristorante e sono venuta cambiata così, per non andare in spiaggia, per fare una bella passeggiata. Bello il mare qua, rispetto là. È un giorno come tutte le altre domeniche.